Domenica 28 novembre, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV, ben ritrovati in diretta con il nostro approfondimento del mattino, tra poco andremo a sfogliare i quotidiani nazionali e locali a darvi primi aggiornamenti di cronaca e di sport in una domenica che vedrà tra l'altro protagonista l'Udinese nella sfida di pranzo per il campionato di Serie A nella giornata in cui si celebreranno i 125 anni di storia della società friulana. In apertura su tutti i quotidiani vedremo tra poco c'è la variante sudafricana, la nuova variante del Covid a tenere banco, così apre il Corriere della Sera infatti andiamo a vedere l'apertura del quotidiano. Nuova variante, un caso in Italia, test positivo a Milano su un uomo arrivato proprio dall'Africa, controlli sui suoi contatti in tre regioni, le segnalazioni in mezza Europa, Speranza, il Ministro della Salute dice, aumenta il tracciamento e le verifiche sui voli più contagi tra i bambini. A centro pagina, sempre sul Corriere, gli alfieri, dei social premiati al Colle, poi Torino, IPM sulla Juve, conti sospetti, Andrea Agnelli era consapevole, un nuovo caso che crea scompiglio sulla Serie A. Nel frattempo i bianconeri ribattuti in casa, l'Inter passa a Venezia, questi i risultati degli anticipi di ieri e ne andremo a parlare poi nella parte sportiva della nostra rassegna stampa. Ci spostiamo su Repubblica. Omicron sbarca in Italia, la nuova variante è stata identificata in un paziente campano arrivato dal Mozambico, era vaccinato con due dosi, altri casi in Belgio, Germania, Regno Unito, l'Europa si blinda, la Commissione si riunisce per decidere un piano di difesa. Il Ministro Speranza e Sindaci tornino subito le mascherine all'aperto. A proposito di questa nuova variante, andiamo a fare il punto nel servizio a cura dell'ANSA. Arriva in Europa Omicron, la nuova variante del coronavirus proveniente dal Sudafrica più facilmente trasmissibile che potrebbe bucare lo scudo dei vaccini. In Belgio è il primo caso, anche Israele ne registra uno. È preoccupante, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa paura, dice la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il vecchio continente prova a blindarsi con lo stop ai voli dell'Africa australe. Omicron spaventa anche i mercati finanziari mondiali. Il nome tecnico è B.1.1.529. È stata segnalata per la prima volta dall'OMS in Sudafrica il 24 novembre e ha un gran numero di mutazioni, alcune delle quali preoccupanti. Segnala il gruppo di esperti incaricato di monitorare l'evoluzione della pandemia. La novità è seguita con attenzione anche dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, secondo cui essa potrebbe essere associata ad una trasmissibilità molto elevata e a un indebolimento dell'azione dei vaccini, ma non ha un'infezione più grave. Per il National Institute for Communicable Disease sudafricano una parziale illusione della risposta immunitaria è probabile, ma è altrettanto probabile che i vaccini offriranno ancora alti livelli di protezione contro il ricovero e la morte. Per ora le informazioni su Omicron sono preliminari, ma sono bastate per far salire l'allarme in tutto il mondo. Torniamo su Repubblica, gli altri temi in prima pagina. C'è la storia di Miriam, l'ultima ha telefonato al fidanzato, stiamo affondando. Si parla della ragazza curda di 24 anni annegata nel naufragio della manica, voleva raggiungere il fidanzato. E poi sempre sul fronte estero i venti di guerra sulla Bosnia incredula. L'inviato Fabio Tonacci ritorna sulle tensioni all'interno del paese balcanico. Da Repubblica ci trasferiamo ora sulla stampa di Torino. Omicron, l'Unione Europea alza il muro, primo contagio in Italia. Parla Ilaria Capo e dice non sarà l'ultima mutazione e neanche la peggiore. La variante spaventa, il governo vuole controlli a campione alle frontiere. A centropagina le periferie delle nuove povertà, un'inchiesta del quotidiano sulle città italiane. Dalla stampa ci trasferiamo sulle 24 ore, temi economici, covid e mercati, la mappa dei rischi, l'emergenza pandemia, la variante sudafricana minaccia lo scenario della ripresa economica, l'allarme sulle borse anche se sulla frenata pesano le prese di profitto dopo il lungo rally dei mercati. A centropagina la catena X chiamata decisiva per l'auto verso una piattaforma europea per la componentistica. Il fatto quotidiano ora, Omicron c'è da luglio ma all'Africa, zero dosi. Il primo caso in Italia è un bivaccinato, silente da quattro mesi, altri positivi nell'Unione Europea, in Regno Unito, Olanda, Germania, Johnson rimette i tamponi all'isolamento agli ingressi, il Sudafrica e la Botswana, sintomi lievi questi, gli annunci che arrivano dai paesi da dove appunto è partito questa nuova formula del virus. Tra gli altri temi ripresi prima sul fatto quotidiano, Grartini dice si parla di vaccini ai bambini per occultare i veri problemi, il farmacologo pensiamo agli adulti scoperti. Dal fatto quotidiano ora ci trasferiamo sul giornale, la variante è in Italia ma ora niente panico, un caso Omicron in Campania, controlli sui voli e più tracciamento. Clementi dice il mondo è in allerta senza dati, il vaccino ci proteggerà. E poi ancora, tra le altre notizie, in Opas fra i turisti, Milano ancora ostaggio degli ultimi, ultra ancora tensioni in Piazza Duomo durante le manifestazioni di ieri. E poi ancora, liberalizziamo le droghe, PD e 5 Stelle spaccano il governo, la proposta di due ministri giallorossi. Si parla anche di Naomi, top model e top furbetta, raccoglie milioni e dona briciole l'inchiesta per la finta beneficenza della Campbell. Andiamo sulla verità, il mega business dietro Omicron, c'è già un positivo, vaccinato in Italia, sta bene, panico per una variante ancora misteriosa, eppure la Fonterlein si aspetta già che Pfizer e company aggiornino i vaccini. Le cause si dicono pronte, il risultato, il valore di mercato sale di 50 miliardi ed è già partita la grande gara per i profitti futuri sui sieri e le terapie. Stavolta anche la sinistra chiede di fermare gli arrivi verso l'Italia, non è più razzismo. E poi, i giovani, il bel ministro, la radone fa lo spot all'antiproibizionismo. Chiesta la perizia sulla ragazza del caso Ciro, alla difesa di Grillo Junior, in carica, un consulente, dopo che pure la procura ha sottoposto a esami psicologici, un punto del processo che danno un giudizio fortissimo, non riesce a dire di no. Intanto arrivano minacce ai legali dei ragazzi. Dalla verità ci trasferiamo su Libero. Ecco le carte che inguaiano la Juve e la Serie A. Fari della procura sui conti, l'esperto dice non ci saranno penalizzazioni, Palamara, i bianconeri attrattivi per IPM. E poi la parabola di Andrea Agnelli, vincente d'insuccesso. C'è anche il racconto dei funerali di Ennio Doris e la lettera dei nipoti per il fondatore di banca Mediolanum. Da Libero andiamo sul manifesto. Europa caccia alla variante Omicron, identificato il primo caso in Italia, due in Gran Bretagna e in Germania. A centropagina vive il titolo della fotonotizia, saremo una marea e così è stato. Nell'anno più drammatico dei femminicidi a Roma sono in centomila la manifestazione di non una di meno contro la violenza maschile, la violenza di genere. Ci vogliamo, vive in piazza decine di gruppi di femministe, tantissime ragazze ma anche uomini. E poi ancora l'Italio Basso ripreso in prima a conferenza Genova, sulle droghe si tenta di voltare pagina. Una manovra inadeguata invece i sindacati in piazza e domani saranno convocati al Ministero dell'Economia e della Finanza. Veniamo ora ai temi legati al nord-est con il gazzettino in apertura. La nuova variante in Italia Omicron in Campania, il primo caso contagi boom in Veneto, Zaia. Ridurremo l'attività degli ospedali, questo il punto in apertura. E sulla situazione del Covid in Italia andiamo a vedere quali sono gli ultimi numeri, i dati per quanto riguarda il nostro paese. Continua a salire l'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia ed aumenta il numero dei posti occupati in terapia intensiva e nei reparti di area medica. La situazione epidemica del nostro paese si conferma in peggioramento con 18 regioni classificate questa settimana a rischio moderato e una al Friuli Venezia Giulia per la quale da lunedì scatterà il passaggio in zona gialla. La regione ha infatti superato tutti e tre i parametri che insieme fanno scattare misure più restrittive. L'occupazione delle aree mediche oltre il 15%, le terapie intensive oltre il 10% e l'incidenza settimanale oltre 50 casi per 100.000. Il quadro fotografato dal monitoraggio settimanale della cabina di regia conferma dunque un trend in peggioramento ormai da 5 settimane con l'incidenza nazionale che si fissa a 125 per 100.000 abitanti contro 98 per 100.000 della scorsa settimana. L'indice di trasmissibilità RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,23, stabile ma al di sopra della soglia epidemica. A preoccupare è anche il livello di occupazione in aumento dei reparti ospedalieri. In terapia intensiva il tasso di occupazione è al 6,2 e nelle aree mediche sale all'8,1%. Torniamo sulla prima pagina del Gazzettino, le altre notizie ritroviamo i funerali di Ennio Doris, l'addio con Silvio Berlusconi, i VIP e i compaesani a Tombolo in provincia di Parvo ai funerali 1500 per il banchiere rivoluzionario, il figlio Massimo, per me sarei sempre Superman. E poi ancora centropagina, sindaco Novax malato, bene avrò il pass, contagiato per accudire la compagna, ma sto bene dice Rino Manzan, qui nella foto con il cantante Povia, una protesta anti vaccini. E poi il super bonus decine di truffati a treviso, lavori affidati mai iniziati, sotto accusa un consorzio napoletano. Dal Gazzettino andiamo ad approfondire alcuni temi all'interno con le notizie del quotidiano. Abbiamo visto prima il punto su Omicron, un contagio da Milano a Caserta, controlli anche nei porti, il primo caso in Italia, l'uomo era rientrato dal Mozambico, infettati anche due figli nel Lazio, verifiche sugli scali e test su chi è entrato recentemente dai paesi a rischio. In Inghilterra nel frattempo solo con il molecolare Israele vuole chiudere i turisti, i vari paesi prendono le contromisure per quanto riguarda questa nuova variante. La terza dose ci difende, può salvarci dall'inverno, a parlare Massimo Cicozzi, l'epidemiologo, ci aspettiamo che il vaccino impedisca i sintomi gravi, i prossimi mesi non saranno comunque drammatici come quelli dell'anno scorso. L'effetto vaccini che funziona, lì è stata una mortalità a livello pre-Covid, questa è la fotografia sull'Italia, in particolare sui vaccini anche in Francia si è seguito l'esempio dell'Italia per quanto riguarda il Super Green Pass e c'è stata anche una corsa alle vaccinazioni. Abbiamo visto dunque le immagini dei francesi che corrono a vaccinarsi, per quanto riguarda invece il Frui Venezia Giulia con Valentina Beazzi facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Nel nostro Paese si abbatte il timore del diffondersi della nuova variante Omicron con il primo caso sospetto registrato in Campania. Per questo il Ministero ha chiesto alle Regioni un ulteriore sforzo per intensificare le attività di tracciamento e sequenziamento nei casi di viaggiatori provenienti da Paesi a rischio o in caso di focolai ad anomalo incremento di casi. Così prevede la nuova circolare inviata dal Direttore della Prevenzione del Ministero Gianni Rezza. Intanto la nostra Regione è l'unica che da lunedì entrerà ufficialmente in zona gialla per due settimane. Sempre da Roma è arrivata la conferma che da noi, per evitare dubbi, si applicherà da subito il decreto che invece entrerà in vigore il 6 dicembre in tutta Italia. Super Green Pass quindi per tutte le attività ludiche, mentre alberghi, mezzi di trasporto, palestre e piscine potranno essere frequentate con le Green Pass base. È stato poi ulteriormente chiarito che non ci saranno controlli su scuola, bus o mezzi di trasporto scolastico e in generale sul trasporto pubblico locale prima del 6 dicembre. In Regione i dati presentano aumenti in vari ambiti. Sono 728 i nuovi positivi e 6 i decessi. I decessi sono stati registrati tutti fra le province di Gorizia e Trieste. Scendono le terapie intensive con 26 ricoverati, mentre aumentano i pazienti nelle aree mediche, passando da 251 a 260. 18 i casi tra gli ospiti delle case di riposo tra Trieste, Grado, Cormons, San Daniele e Montereale-Valcellina. Tre gli operatori positivi, anche qui tutti a Trieste. Vediamo proprio al gazzettino, nell'edizione del Friuli contro il virus, mille assunzioni. L'anno scorso si è passati da 80 a 90 mila dipendenti pubblici. Nuovi contratti nella scuola e nella sanità calano negli altri comparti. Il Friuli Venezia Giulia è il quarto posto in Italia per numero di impiegati pubblici 7.5 ogni 100 mila abitanti. La voce degli albergatori, regole uguali per tutti, le restrizioni attenuate in vigore da domani con la zona gialla in Friuli Venezia Giulia. E poi la foto con la Dacia Arena illuminata, 125 anni da festeggiare con la vittoria. Tra poco andremo ad approfondire proprio il tema, la presentazione della sfida di pranzo. E poi ancora la storia del Novecento raccontata agli studenti. All'interno delle pagine friulane del gazzettino c'è il punto contro la pandemia, mille nuovi addetti. La situazione economica con la fotografia per quanto riguarda i dipendenti pubblici. In regione dal 2020 si è passati da 80-90 mila. Le assunzioni nella scuola e nella sanità calano negli altri comparti. Ancora all'interno con le altre notizie. Federal Berdi che dice che le regole valgano per tutto il settore, obblighi dal 6 dicembre. Le categorie, alcune strutture escluse, così si crea disparità per una settimana. In Friuli Venezia Giulia si dovrà esibire il certificato cartaceo. Perché? Perché l'app non è ancora pronta. Micro imprese, ci sono 206 domande pervenute alle Camere di Commercio per accedere ai fondi regionali che supportano i processi di innovazione. La Giunta ha anche approvato la programmazione per il triennio delle risorse statali per i servizi di educazione. Tra poco andremo a parlare dell'Udinese, dello stadio, di questa festa dedicata ai 125 anni della società. Ma continuiamo con i quotidiani locali. Andiamo a Trieste con il piccolo. Da domani il Super Pass ha rilento le prime dosi. Zona gialla e restrizioni per chi non è vaccinato. Torna l'obbligo della mascherina all'aperto. A centro pagina la foto ci porta alla situazione della diocesi di Trieste. Con la Caritas e il fondo Ravignani cresce l'aiuto alle persone fragili. Dal piccolo di Trieste andiamo a vedere l'edizione di Egorizia del quotidiano che nelle pagine locali dedicate al capologo Isontino fa parlare il Sindaco, Rodolfo Ziberna, che dice ha deciso, mi ricambido, c'è tanto da fare, sei le liste in suo supporto. Il Sindaco, il piano delle opere pubbliche da concretizzare, dobbiamo vincere la sfida della Capitale della Cultura. Sulla futura giunta, discorso prematuro, ma ci sarà bisogno di una squadra con entusiasmo e voglia di fare. Parla anche Petarin, il parlamentare goriziano del centro-destra. Il 2025 sarà l'anno della svolta a dichiarato. Dalla piccolo andiamo a vedere l'edizione del Messaggero Veneto dedicata al Friuli. In apertura nel quotidiano, eccoci qua, c'è la novità delle mascherine all'aperto, dai romani c'è l'obbligo in Friuli Venezia Giulia, il Governo ha firmato l'ordinanza per le limitazioni in regione. A rilento invece le prime dosi dei vaccini. A centro pagina la foto ci riporta ancora alla festa per i 125 anni dell'Udinese, dai più neri all'Europa con i Pozzo. E la foto è quella che moltissimi tifosi bianconeri conosceranno, quella della prima formazione bianconera. Tra le altre notizie riprese in prima pagina, in cronaca i bollettini tari in ritardo, potrebbe slittare il pagamento della rata. Protestano gli ambulanti a Santa Caterina Udine, controlli troppo rigorosi. E poi l'impegno del sindaco, voglio risolvere i problemi di Latisana, parla il noi eletto 7. All'interno delle pagine locali del Messaggero Veneto, l'apertura sulla città di Udine, i bollettini della Tari non ci sono, il Comune posticipa le scadenze. Migliaia di famiglie non hanno ricevuto la lettera per la prima rata, possibile un rinvio al 27 dicembre. E poi in via Cividina, i divani, i sacchi pneumatici lasciati sotto il cavalcavia, alcune immagini del degrado a cielo aperto. Dal Messaggero di Udine andiamo a vedere l'edizione anche di Pordenone, con la pagina dedicata alla città del Noncello. in apertura l'aumento delle date delle sedi per i vaccini, ma serve personale, i medici sono disponibili. Lucchini, noi ci siamo, Clarizia, che è Presidente dell'Ordine degli Infermieri, gli infermieri vanno pagati. In ospedale anche la seconda medica adibita a reparto Covid. Di taglio alto, i controlli rafforzati, l'appello del Prefetto alle categorie sulla vigilanza per quanto riguarda le nuove ordinanze che entreranno in vigore, come abbiamo visto, da domani. Andiamo a vedere ora le pagine sportive con la Serie A, che ieri ha visto i suoi anticipi classici del sabato. Tutto sport, un urlo della Dea e la bufera sulla Juventus. L'Atalanta ha vinto contro i bianconeri allo Stadium. Il gol di Zapata, Napoli e Milan sono a quattro punti. Per Allegri la quinta sconfitta in campionato procede l'indagine sulle plusvalenze. La risposta del club in un comunicato. I risultati abbiamo visto, oltre alla sfida di venerdì, 1-1 tra Cagliari e Salernitana. Ieri l'Empoli ha vinto contro la Fiorentina 2-1, l'Atalanta 1-0 in casa della Juve, la Sampdoria in rimonta 3-1 al Verone e poi l'Inter che ha sconfitto 2-0 il Venezia. Oggi l'Udinese a pranzo contro il Genoa alle 12.30, poi Milan-Sassuolo, Spezia-Bologna, Roma-Torino e Napoli-Lazio. Le altre notizie sul tutto sport. L'Italia ai quarti di Davis, Sonego e Sinnershow, gli azzurri battono la Colombia e domani tornano in campo per conquistare la semifinale di Madrid. Jannik devastante anche contro Galan, 7-5-6-0. Tornando invece al campionato, Milan-Sassuolo, fenomeno Ovegnan per restare al comando e poi contro la Roma, Toro prova a fare tu lo special. Dalla tutta sport al corriere dello sport. Inter scatto scudetto, questo è il titolo, vince 2-0 a Venezia, si porta meno uno da Milan e Napoli, gol di Cialanoglu e Lautaro. In vetta si accorcia la classifica, tre squadre in lotta, Gasperini in segue. Crisi Juve senza fine, CR7 il contratto segreto. E poi festa Italia nei quarti di Davis. Andiamo ora sulla gazzetta dello sport. L'apertura del quotidiano sportivo dedicata all'Inter, tutto bello con l'Asso Cialanoglu, sbancata Venezia, il turco scatenato, apre la strada nel finale rigore del 2-0 di Lautaro. Inzaghi non si ferma più, chiusa una settimana importantissima. La lotta a scudetto, i nerazzurri mettono pressione alla coppia di testa. Il taglio alto, Juve tutto nero, doppio sciocco, una signora senza pace in campo e fuori. In campionato, Allegri a picco, meno sette dal quarto posto, Atalanta da big e super zappata. Poi sul caso Plus Valencia, IPM accusa Agnelli sapeva del sistema, il club ora rischia. Napoli, Mertes contro Immobile, una sfida da 300 gol. E poi il Milan, ria con le mani di Magnana, e Ibra fa gli straordinari. All'interno, andiamo a vedere le pagine dedicate all'Udinese. Udinese, dicevamo, impegnata alle ore di pranzo, alle 12.30 contro il Genoa. È una generazione 2000, Udogi, Cambiasso e gli altri. Va in scena la sfida tra i migliori talenti del campionato, scrive la Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere anche le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Dacia Arena. L'Udinese dovrebbe schierarsi con Silvestri, poi Becao, Noiting e Samir. Molina, Pereira, Wallace, Arslan e Udogi. Oggi a centrocampo e poi la coppia d'attacco dello Feu-Beto. Ieri ha parlato, come al solito, il mister Luca Gotti alla vigilia della sfida. Allora andiamo ad ascoltare le sue parole, le sue attese per questa gara di campionato. Siamo in una società, in un club di grande e lunga tradizione. La maglia celebrativa è veramente splendida, però queste cose rimangono fuori dal campo. Simbolicamente rimangono fuori dal campo. Noi dobbiamo occuparci ed essere focalizzati su quello che dobbiamo fare noi in campo. Vorrei vedere intanto che non ci siano i due volti, o meglio, che non ci sia il volto che ci piace di meno, perché questa squadra praticamente in tutte le partite, quasi tutte le partite, ha avuto dei momenti buoni, molto buoni. E però in molte partite ha dei cali, ha dei cali di rendimento. Di fatto proprio ha dei cali di rendimento e che ti fa dire che è ancora un po' immatura. Io, come ho già detto più volte, non ho intenzione di fare stravolgimenti concettuali e mettere in difficoltà i giocatori, togliere sicurezze ai giocatori, che nel fare certe cose si ritrovano, soprattutto nei momenti di difficoltà, facendo delle cose che conosci meglio. Di sicuro ci sarà qualche accorgimento specifico che riguarda questa partita contro questo Genova. Il Genova, credo, abbia diverse assenze, qualche assenza, ma di sicuro ha giocatori che sanno giocare a calcio, ha giocatori che hanno molta esperienza. La squadra che ho visto nella partita scorsa, quindi l'unica partita con questo nuovo staff tecnico è stata giocata contro una squadra di grande qualità, la Roma, e ho avuto la sensazione di una squadra ordinata, che ha tenuto bene il campo, tant'è che era riuscita a portarla quasi fino in fondo e solo un gol nel finale li ha condannati. Queste le parole di mister Gotti, dicevamo e lo ricordava anche l'allenatore, oggi l'Udinese scenderà in campo con la maglia celebrativa, la terza maglia per i 125 anni, con una grande festa che inizierà dalle ore 11 alla Dacia Arena. Abbiamo anche il filmato per quanto riguarda la festa dei 125 anni con i ricordi delle tappe salienti nella storia delle zebrette, immagini che naturalmente oggi scorreranno sugli schermi della Dacia Arena e i giocatori che scenderanno in campo con queste divise per celebrare l'anno di fondazione, il 1896, una data davvero significativa con la Dacia Arena naturalmente che si vestirà a festa, le luci che ieri, lo vedete dal drone, hanno illuminato l'esterno dello stadio bianconero per celebrare dunque questo importantissimo avvenimento che naturalmente speriamo venga anche celebrato con una vittoria, la vittoria nella sfida contro il Genoa di pranzo, alla festa, allo stadio ci saranno anche Gravina, la Presidente e poi Federighi, i grandi ex bianconeri, un evento che inizierà alle ore 11, lo potrete seguire in diretta a Facebook sulla pagina di Udinese TV, sui social bianconeri e poi naturalmente dalle 11.30 in diretta qui con Massimo Campazzo, studi e stadio per seguire sia i festeggiamenti allo stadio sia poi la partita, il pre e il durante il post di Udinese Genoa. Andiamo a vedere poi le altre notizie dedicate ai bianconeri sulle pagine del Gazzettino. Eccoci qua con le pagine sportive. Davanti alla storia per una vittoria, così sintetizza la giornata odierna e il quotidiano, lo stadio oggi è la festa di 125 anni con numerosi campioni del passato. La squadra di Gotti deve dare gli attesi, segnali di maturità e battere il Genoa. I bianconeri cadono in casa del Parma, questo per quanto riguarda la primavera che ha giocato ieri la sua sfida di campionato. Tornando invece all'Udinese, alla prima squadra, le progressioni di Beto possono far male una delle chiavi di lettura della sfida di oggi. Sempre sull'Udinese andiamo a vedere anche le pagine del Messaggero Veneto che celebrano i 125 anni con alcune foto storiche, su tutte le abbiamo viste prima in apertura, quella della prima formazione bianconera del 1896. Ricordi, emozioni, campioni, vittorie sconfitte a tinte bianconere, zii col fuoriclasse assoluto, e di Natale il campione che ha fatto l'epoca dallo scudetto fantasma alle imprese in Europa. Altre foto celebrative, questa la vedete, Selmos e Lidlm Nordal nel 1955 prima di Udinese Milan, la stagione in cui l'Udinese arrivò a seconda in campionato. E poi dal 1977 al 1979 l'Udinese Di Giacomini che passa dalla Serie C alla Serie A. E le foto delle cavalcate europee, partite storiche da brividi, mister Guidolin, Udinese Aia, e poi Parone Pozzo con Totò di Natale. Alcuni dei bianconeri che hanno fatto la storia della formazione friulana, insomma, un condensato di grandi ricordi che speriamo davvero oggi possa venire celebrato con una vittoria in campionato. Andiamo a vedere per quanto riguarda invece la Serie B, il Pordenone che è stato riuscito ieri a portare a casa un punto da Frosinone, stava vincendo la formazione di Tedino, ma si è fatta raggiungere 2-2 al 96esimo. Questo è il risultato finale per Iramarri. In classifica la squadra di Pordenone rimane all'ultimo posto, quota 4 punti. Negli altri gare della Serie B di ieri, le vittorie dell'Alessandria, del Benevento, del Pisa, della Spal, con il ritorno di Pepito Rossi al gol il Vicenza che ha vinto a Crotone e poi 3-3 tra Lecce e Ternana, 1-1 tra Perugia e Cittadella, così come tra Ascoli e Monza. Il Pisa continua a guidare la graduatoria, seguito dal Brescia. Andiamo avanti con le altre notizie sportive per quanto riguarda lo sci, la partenza shock, poi per Vitozzi la gran rimonta nel Biatron, la Sappadina sbaglia al Poligono, ma si riprende e finisce 13esima nell'esordio in Coppa in Svezia. Oggi ci sarà l'inseguimento. Andiamo avanti con il basket, l'Old Wild West, un ritorno cercando l'impresa dopo la sosta forzata per Covid, due uomini di Boniccioli attesi dalla capolista, Giuri dice è uno scontro diretto, dobbiamo vincerlo alle 17, la sfida contro appunto la formazione di coach Marco Stum con Lapu che cerca la vittoria contro Cantù invece che vuole tornare al successo un match che calza a pennello a disposizione di Sodino un gruppo costruito per salire in Serie A occhio ai due americani forti al Furiano Cusini all'ex Trieste da Ross questo per quanto riguarda il basket noi ci fermiamo qui prima di salutarci un aggiornamento di cronaca con un incidente stradale che è avvenuto nella notte attorno alle 4.35 a Fagagna un'auto fuoriuscita di strada è andata a sbattere contro un muro il conducente del veicolo è risultato ferito è stato trasferito in codice giallo in ospedale a Udine sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi la giornata dicevamo su Udinese TV da non perdere dalle 11.30 la diretta studiastario con Massimo Campazzo e collegamenti dalla Dacia Arena per la festa dedicata ai 125 anni dei bianconeri ma anche per seguire la sfida contro il Genoa stasera invece alle ore 21 l'altra domenica con Paolo Bargigia una domenica tutta da vivere su Udinese TV l'informazione tornerà alle ore 19 con il nostro TG grazie per averci seguito ancora a tutti voi l'augurio di una buona giornata in un ambiente elegante nel cuore di Udine Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria e un vivace spazio dedicato a Dodo brand giovane e innovativo Bortolin Gioielli si completa con la boutique Montblanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento la boutique e lo shopping shop si affacciano su biari alto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per questa domenica che attenzione sarà particolarmente instabile sulle regioni di nord-est in Frui Venezia Giulia tante nuvole alternate sia anche a qualche parziale scherita ma ombrella portata di mano come vedete resterà alta la probabilità di pioggia acquazzoni addirittura anche qualche temporale perché arriva aria più fredda dal nord Europa temperature infatti in netta diminuzione entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Pordenone e Udine temperature che difficilmente andranno oltre i 10 gradi anzi rimarremo anche decisamente al di sotto dei 10 gradi ma al tempo anche con la neve in montagna fino a quote relativamente basse anche tra Gorizia e Trieste tempo in peggioramento con parecchie nubi anche qua anche qua alta probabilità di precipitazione e temperature in calo e tanto vi segnalo anche vento lungo le coste adriatiche per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi vista la situazione scaricate l'app di Trevi Meteo grazie a tutti i nostri spettatori e non grazie a tutti i nostri spettatori